Ok, primo match, ok dai, dai, andiamo a un po' di cucinare, andiamo a un po' di cucinare. Let's go! Allora. Vediamo un po'. Sapete cosa? Il minaccio direttamente sulla terza, non frega poco niente. Quanto è bagato! Quanto è bagato! Quanto sei bagato! Quanto sei bagato! Quanto sei bagato! Vediamo! Ehi! I miei compagni non li vedo attivissimi comunque, eh! Non per dire, eh! però mamma mia è fragile Roger ragazzi questo difetto ce l'ha è un po' fragile poi la mia percentuale non è al massimo perché ho dato precedenza ai tag ovviamente però allora 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 la cattura è rotta raga la cattura è rotta ragazzi la cattura è rotta la cattura ve l'ho detto è sgrava beh quasi 8k punti ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta poi raga secondo me è il top 1 perché il runner è il è il miglior ruolo del gioco quindi i runner sta cosa ce l'hanno raga per questo gioco le partite le vinci le partite le vinci catturando le flag per quanto uno si va a difendere bravo attaccare ragazzi chi cattura il bandiere vince tre roggi in squadra nice really really nice ok qua adesso mi butto proprio a capofitto il loro compagno ha crashato no penso che aspettasse me no penso che oh vabbè ci sta poi mi sono proprio lanciato mi sono proprio lanciato quindi ci sta ci sta iscriviti al nostro canale minchia minchia è bello mi piace il botto sto pg mi piace veramente un botto raga mi piace veramente un botto sto pg mi piace veramente un botto cavolo ora vediamo se riusciamo a ripigliarci perché oh eh shanks porta rispetto ah pensavo di prenderlo con la gg gg raga gg raga gg via con il terzo match e direi che possiamo trarre le nostre conclusioni raga però come avete potuto benissimo notare è il top è veramente il top terzo e ultimo match raga dai dai e roger mamma mia il king of the pirates il king of the pirates ok vediamo se riusciamo a cucinarli a shanks bisogna stare ovviamente super attenti quindi attend朋友 in assi si a si av his vediamo in seg vediamo mis il outros vediamo vediamo vi vediamo vediamo Allora Maledetto chi dell'ho E vabbè Kodo Maledetto chi noca bèk Devo capirlo bene ancora come usarlo A sto pg eh Perché non è semplice da usare Non è semplice da usare Vabbè signori Che dire Terzo ultimo match di Roger Comunque adesso appena Li faccio il set Molto probabilmente sarà il set triplo Clyde Il set che li farò tra l'altro Appena farò il set Vi farò vedere Comunque lo giocheremo anche con il set Fatto apposta per lui Signori io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Iscrivervi al canale Attivare la campanella delle notifiche Per non perdervi nessun video E noi ragazzuoli Ci vediamo Alla prossima E ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima